Ma che bontà il cioccolato! E questo lo potete realizzare a casa come più preferite Accendete il forno statico a 180 gradi, sistemate le tavolette di cioccolata uno vicino all'altro Io ho alternato una tavoletta di cioccolato fondente con una di cioccolato bianco Quando il forno è caldo spegnetelo, infornate la teglia e lasciate sciogliere il cioccolato per 5 minuti Quando il cioccolato sarà morbido togliete la teglia e con uno stecchino muovete il cioccolato in modo da variegarlo E ora decoratelo con biscotti, ovetti o confetti colorati Fate raffreddare in frigorifero per 10 minuti Quando il cioccolato sarà bello solido non vi resta che prenderlo e spezzarlo con le mani È perfetto anche da regalare Buono, facile facile e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu Grazie 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 Grazie